Tempo di maturità per gli 822 studenti degli istituti superiori di Andria, tempo di prova ad italiano, Moravia e Quasimodo per l'analisi del testo, Federico Ciabod, Piero Angela e Oriana Fallaci per il testo argomentativo, l'attesa al tempo di Whatsapp ed una lettera aperta degli accademici all'ex ministro dell'istruzione Bianchi sulla richiesta del ritorno e gli esami scritti del quinto anno dopo la pandemia per le tracce d'attualità. Questi i temi della prima prova ad italiano, diverse le scelte degli studenti, positive le loro sensazioni al termine del primo giorno d'esame. Prima prova conclusa, da pochissimo si è appena uscito, com'è andata? Senti, credo sia andata abbastanza bene, ho scelto la traccia B2, quella su Piero Angela, ero un po' ansioso all'inizio però poi mi sono tranquillizzato e credo sia andata tutto per il meglio. Ti ha sorpreso questa traccia proprio sul Piero Angela? Eh sì, sinceramente non me l'aspettavo proprio anche se diciamo era un po' prevedibile data la sua morte però è stata comunque una traccia molto interessante sulla creatività, sul progresso un po' in generale. Abbastanza bene, un po' di difficoltà all'inizio però comunque è andata molto bene. Tu cosa hai scelto? Io ho scelto la traccia B2 che parlava appunto del software che stanno prendendo il sopravvento nella nostra società. Sono tracce che vi aspettavate? Ti ha colto in preparata o eri pronta? Eh no, un po' me l'aspettavo perché comunque diciamo parlavano della tecnologia, infatti io ho scelto la C2 che parlava del tempo e dell'attesa che era stata diminuita proprio dai social e soprattutto da Whatsapp. Insomma tanti timi d'attualità, tu cosa hai scelto in particolare? Anche ho scelto la C2 come lei, infatti si parlava proprio di come il tempo stia proprio cambiando perché nessuno vuole più attendere o comunque sia godersi il momento anziché passare direttamente al dunque. La traccia riguardante Whatsapp e i tempi d'attesa sia stata quella preferita, confermate? Sì, però è sembrata la più facile ma è stata in realtà molto difficile perché c'era concentrata solo su un unico argomento quindi non potevi spaziare tanto. Però ce la siamo cavata insomma, com'è andata? Sì, dai che se sento non fa paura. A te com'è andata invece? Benissimo, il tema più lungo della vita mia. Ho scelto la traccia 2 in cui parlava del romanzo di Moravia e ho fatto il collegamento anche con Verga. Ti aspettavi questo tipo di tracce? No, mi aspettavo un autore che avessi studiato però sono riuscita comunque a scrivere. Appena uscito dalla scuola con il vocabulario in mano hai scelto un'analisi del testo? Sì, sì, ho scelto Alberto Moravia e ho parlato dalla borghesia e ho parlato anche dall'autore di Birandello.